Sulla questione rifiuti il comune di Messina si gioca la faccia e lo fa davanti al mondo intero. Il Giro d'Italia, vetrina d'eccezione per la città dello stretto, potrebbe divenire un'arma a doppio taglio. L'immagine che la città dovrà dare di sé dovrà essere impeccabile, ma i nodi risolti restano nonostante i buoni propositi. E tra i nodi più spinosi l'emergenza spazzatura resta tra i più difficili da affrontare. Nonostante la buona volontà resta infatti alta la tensione. Alcune zone della città restano dominio dell'incuri e dell'inciviltà. Le estreme periferie soffrono e soffrono anche i grandi agglomerati come il carcere di Gazzi, dove, come denunciato dallo stesso direttore, il servizio di raccolta non viene effettuato da diversi giorni. E poi su tutto il nodo della Costituzione della Messina Servizi Bene Comune, ferma al palo di un Consiglio Comunale che decide di non decidere incurante della sorte di circa 600 lavoratori che adesso giurano battaglia se entro domani il Consiglio Comunale, fissato alle 18, non si troverà alla quadra per definire e finalmente votare l'atto di affidamento alla nuova società. È una forma di protesta eclatante come quella promessa dai lavoratori della Messina Ambiente aderenti alla FPCGL alla vigilia di una manifestazione internazionale come il Giro d'Italia potrebbe non essere il massimo per una città che ha bisogno di vendersi e promuoversi. Questa mattina intanto l'assessore Ialacqua ha incontrato nuovamente i vertici della società in house ma la partita si giocherà tutta in aula.